Anche al più grave delle nostre colpe, dei nostri delitti, c'è rimedio se noi ci apriamo al perdono, al perdono di Dio, al perdono dei fratelli. E in questi luoghi, anche oggi l'ho toccato direttamente con mano, l'estrema prova assunta consapevolmente nell'espiazione, cioè per rendere giustizia a coloro che si sono offesi, l'estrema prova del carcere, se viene assunta così, diventa l'inizio di un cambiamento, di una risurrezione. Questo ha molto molto da insegnare a noi uomini cosiddetti liberi di oggi, che invece tendiamo a non vedere un dato molto importante, che siccome siamo responsabili i nostri atti ci seguono e quindi se sbagliamo dobbiamo disporci a quell'espiazione che è la finestra attraverso la quale la misericordia di Dio entra e ci cambia. Quindi la pena non come un castigo ma come un modo per rinascere. Certamente, cioè quindi la pena deve avere un valore assolutamente medicinale. Qualche passo si è fatto nel nostro paese, ho incontrato spesso uomini che lavorano nelle carceri, anche donne, molte donne che lavorano nelle carceri, che hanno chiara coscienza di questo, che la pena deve essere medicinale. Speriamo che si vada sempre più avanti in questa strada, perché la pura punizione non è degna di una società civile e evoluta come la nostra. Però dobbiamo collaborare tutti come cittadini, non dobbiamo annullare la pena. Infatti la cosa che mi colpisce è che trovano i carcerati una disponibilità ad espiare, si rendono conto che la colpa va espiata, però da subito, se vogliamo pensare a un loro effettivo reinserimento, dobbiamo dare a loro i mezzi e le possibilità per un cambiamento da subito, da qui dentro, attraverso il lavoro, la lettura, lo studio, la solidarietà che si deve creare. Ma io penso che c'è una sensibilità diffusa in Italia in questa direzione, ma bisogna fare ancora molto e la stampa può fare molto.